Atalanta-Fiorentina 2-3 2 giugno 2024, Daniele Orsato ha arbitrato la sua ultima gara di Serie A. Daniele Orsato, 49 anni, il prossimo 23 novembre della sezione di Vicenza, l'arbitro italiano più importante in questo momento, uno degli arbitri italiani più importanti degli ultimi anni, degli ultimi decenni, con una carriera quasi inappuntabile dal punto di vista prestazionale, dal punto di vista anche dell'affidabilità, un punto di riferimento per gli arbitri italiani e non solo. Esordisce in Serie A a fine anno 2006, nella stagione 2006-2007, in un periodo sicuramente burrascoso, dove tra l'altro c'era bisogno, ci fu bisogno anche di un rimescolare le carte dal punto di vista dell'organizzazione arbitrale dopo lo scandalo Calciopoli. E da lì una carriera sicuramente molto brillante. Tra gli arbitri con il maggior numero di presenze in Serie A, ma anche una grandissima esperienza internazionale, tra cui tre gare dirette ad un mondiale, l'unico mondiale in cui ha diretto gare quello di Qatar 2022, arrivando ad arbitrare la semifinale, mentre nel mondiale 2018, prima volta chiamato dalla FIFA ad un mondiale senior dopo il mondiale under 20, era però soltanto al VAR, e poi anche una finale di Champions, la finale di Champions 2019-2020. 16 gare dirette in Europa League e 55 in Champions League, tra cui appunto la finale 19-20. E poi tante, tante, tantissime gare internazionali e anche di livelli più bassi nel calcio italiano, in Serie C all'epoca e anche in Serie B, e poi è stato chiamato anche di recente ad arbitrare anche all'estero, per esempio nella Saudi Pro League. Orsato ha sempre avuto un metro arbitrale molto ben identificabile, un modo di dirigere sicuramente autorevole, facendosi rispettare, dialogando in maniera puntuale, ma senza mai perdere, senza quasi mai perdere il polso della situazione, anche in tantissime gare molto delicate, anche se nonostante questo Orsato a molti non è mai piaciuto. E ci sta, non si deve piacere a tutti, non si può piacere a tutti, il problema casomai della carriera di Orsato è stata la gestione mediatica post-Inter Juventus 2-3 dell'aprile 2018, per la questione del mancato secondo giallo a Pjanic, anche se difficilmente si ricorda che in quella partita gli errori o i possibili errori furono altri, per esempio poteva esserci un calcio di rigore per la Juventus, di cui non si è mai parlato, insomma una gara sicuramente arbitrata male, di cui si è parlato troppo, per sostegno alla parte interista e per sostegno alla parte napoletana, che si disse perse lo scudetto, il Napoli di Sarri, proprio per quella vittoria della Juventus la sera prima di Fiorentina-Napoli, lo scudetto perso in albergo proprio perché ci fu un arbitraggio si disse a favore della Juventus e quindi molti odiatori della Juventus utilizzarono Orsato e quella partita per portare avanti le proprie ragioni. Ma appunto la gestione mediatica ha anche un po' rovinato la carriera ad Orsato suo malgrado, nel senso che Orsato come si sa per anni non ha potuto arbitrare l'Inter per una questione di eleganza, per una questione di delicatezza, per una questione di opportunità. Una questione infondata, una questione assurda, una cosa ingiustificabile, si è privata l'Inter, i tifosi dell'Inter, i giocatori dell'Inter, ma in generale la Serie A e quindi le avversari dell'Inter di un arbitraggio inappuntabile, un arbitraggio di garanzia, quando arbitra, anzi, quando arbitrava Orsato in Serie A si stava praticamente sicuri. E proprio a vent'anni dall'ultima partita di Roberto Baggio in Serie A e nel calcio, viene quasi già da dire da quando Orsato non arbitra più. In un periodo in cui, tra l'altro, le polemiche arbitrali continuano ad essere sempre abbastanza vehementi, intense, nonostante gli strumenti tecnologici, Orsato, da questo punto di vista, è stato un arbitro attraverso le generazioni, perché ha veramente attraversato tante fasi, trovandosi nel vivo della sua carriera, nella parte finale, ma comunque nel vivo della sua carriera, nel momento dell'introduzione sperimentale del VAR in Italia nel 2018, e appunto lo sperimentò lui per primo come varista al Mondiale di Russia 2018, pochi mesi prima, poche settimane prima dell'introduzione nel calcio italiano, e nonostante questo, appunto, nonostante il VAR e la tecnologia, continuano ad impazzare le problemiche arbitrali, almeno in Italia, e l'insoddisfazione per gli arbitraggi, perché è una questione culturale, si parla sempre troppo di Moviola e sempre troppo poco di calcio giocato, ma nonostante questo, può piacere o non piacere, Orsato, al centro di polemiche, almeno negli anni recenti, c'è stato pochissimo, perché davvero, per quanto possa essere stato divisivo con il suo metro arbitrale, è sempre stato abbastanza, se non tantissimo, affidabile, e ci si augura quindi per l'interesse, nell'interesse del calcio italiano in particolare, che possa subito esserci un nuovo Orsato o comunque una classe arbitrale a quel livello di autorevolezza, di precisione, di puntualità, di rispetto della competizione e quindi di garanzia nella direzione delle gare. Grazie a tutti.